Ciao, ho realizzato questo video per porre l'attenzione su una funzione di Magento versione dalla 1.7 alla 1.9 che trovo spesso non viene utilizzata dai proprietari dei siti dell'e-commerce appunto realizzati in Magento. L'ho visto spesso da molti miei clienti anche se io continuo a sollecitarli di fare il presente e di utilizzarli, anzi se tu che mi ascolti sei, se tu che stai guardando i video sei un mio cliente ti ricordo di utilizzare questa funzione che è molto molto importante se invece non ci conosciamo volevo portarti all'attenzione ma è una funzione che non ti è stata spiegata, non ti è stata illustrata correttamente ma che può realmente cambiare le modalità di utilizzo del sito web da parte dei tuoi visitatori se sfruttata a pieno. E sto parlando dell'utilizzo delle funzioni dei prodotti correlati associati e consigliati di Magento. Quando noi carichiamo un prodotto in Magento noi abbiamo il nostro bel prodotto con la nostra scheda con tutte quante le sue immagini nella sua bella descrizione che viene posto in vendita. All'interno della scheda mentre stiamo caricando possiamo andare a indicare dei prodotti da associare in vari modi al prodotto che abbiamo creato. Per fare questo ovviamente dobbiamo già aver creato anche gli altri prodotti visto che è stata un'associazione però quello che voglio spiegarti qui non è tanto come realizzare una scheda prodotto, come impostarla, poi anche alcune funzioni a volte cambiano un po' da tema a tema quindi adesso lo faccio vedere col tema quello generico di Magento poi ovviamente va visto col tema che tu utilizzi se la funzione è la stessa, se hanno mantenuto le stesse posizioni all'interno della scheda prodotto potrebbero mancarne alcune in alcuni casi vanno reintegrate oppure va studiato il perché mancano. Però appunto con questa funzione noi possiamo andare ad arricchire l'esperienza di acquisto dei nostri clienti cercando di spingerli ad acquistare i prodotti che noi vogliamo o ad aumentare magari l'importo dell'acquisto. Prendiamo un prodotto di esempio dove sono andato a caricare, allora questa è una scheda se prendo questo prodotto, prendo un sito su cui stiamo lavorando, questo prodotto è un prodotto semplice, ha la sua foto, la sua descrizione, come viene caricato nel 90% dei casi. Quindi è un prodotto semplice, lo può vedere, lo può comprare e chiuso il discorso, poi può tornare nella categoria e vedere altri prodotti, magari posso avere le freccette che mi aiutano ad andare avanti e indietro per scorrere i prodotti, quelle appunto sono funzionalità del tema, però è appunto una scheda prodotto. Non è il modo perfetto di utilizzare Magento perché abbiamo, non stiamo sfruttando tutte le caratteristiche. Se noi andiamo a prendere un prodotto dove ad esempio ho caricato dei prodotti correlati associati, allora ho già preparato per velocizzare un po' il sistema. Ecco, quando magari facciamo queste prove, queste azioni, ricordiamoci o di disabilitare la cache di Magento o di svuotarla, perché a volte altrimenti potremo non vedere i risultati immediatamente. Questa è sempre una scheda prodotto, però come posso vedere, oltre a avere il mio prodotto, ho una sezione che è definita prodotti associati e poi ho un'altra sezione che sono i prodotti alternativi, dove il sistema mi dice potessi essere interessato al seguente prodotto. Questa scritta può essere leggermente diversa, se magari ho una traduzione un po' personalizzata. La differenza tra intanto queste due aree qual è? Questi sono dei prodotti associati, quindi delle opzioni aggiuntive dei prodotti che magari vanno acquistati assieme, che possono essere acquistati assieme al prodotto che io sto proponendo. E la parte più interessante è quando presentano questa cancellina spuntabile. Perché è più interessante? Perché praticamente il cliente che sta vedendo questo prodotto vede che magari c'è anche, appunto come in questo caso, la custodia rigida che può comprarla a parte. Il cliente spuntando questa voce, se fa aggiunge al carrello, aggiungerà al carrello sia la penna che la custodia. Se ci fossero altre voci, spuntando le varie voci, le aggiungerà tutte assieme. Perché su queste voci non appare la spunta? Perché questi sono dei prodotti che hanno dei campi aggiuntivi di personalizzazione. Ad esempio qui schiediamo il testo, quindi non può essere aggiunto solamente con una semplice spunta, perché il cliente mi deve compilare questo campo. Di conseguenza questo prodotto, il servizio incisione piuttosto che il servizio di... il cambio del tipo di pennino, in realtà non dovrei proprio collegarli qui nei prodotti associati, perché non posso selezionarli semplicemente, ma bensì devo andare a cliccarci sopra per andare a visualizzare quel prodotto specifico e aggiungerlo. Noi li abbiamo caricati lo stesso, in questo caso il template poi di questo sito è modificato, quindi è impostato in maniera differente la parte di comunicazione. Li abbiamo aggiunti perché comunque ci interessa che il cliente sappia che c'è quell'opzione, cioè che può avere anche l'incisione sulla penna. Ovviamente dovrà aggiungere la penna, poi andare ad aggiungere il servizio di incisione a parte perché ci darà i dati. Però se noi strutturiamo correttamente i prodotti, mettendo dei prodotti che non richiedono azioni aggiuntive, quindi selezioni aggiuntive, magari colore, taglio, altre cose, possiamo farlo. Pensiamo ad esempio, stiamo vendendo un elettrodomestico, come potrebbe essere una lavatrice, potrei mettere come prodotto associato magari l'estensione di garanzia, che non occorre che il cliente vada dentro a leggere tutto quanto, gli metto l'estensione di garanzia, 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, interventi a domicilio. Potrei metterli come prodotto associato magari del detersivo aggiuntivo, che non è che il cliente occorra che vada proprio dentro a vedere le proprietà. Ovviamente funziona con prodotti non molto costosi, cioè anche se qui noi avessimo la spunta, mettiamo che non avessimo la necessità di dare dei dati aggiuntivi, quindi potessimo avere la spunta, il cliente interessato probabilmente mi spunterebbe la custodia, potrebbe spuntare anche che vuole l'incisione sul pennino e sulla penna, difficilmente metterà una spunta per acquistare un pennino aggiuntivo da 150 euro, perché ha un valore molto elevato in confronto alla penna, quindi quasi sicuramente il cliente entrerà a guardare la scheda di questo prodotto prima di aggiungerlo al carrello. I prodotti associati dovrebbero essere dei prodotti che il cliente proprio acquista quasi, non dico di impulso, però comunque abbastanza sulla spinta dell'acquisto del prodotto principale senza doverci riflettere eccessivamente, quindi direttamente dentro la pagina. Infatti c'è anche la voce seleziona tutto, che mi selezionerebbe tutte le spunte e il cliente acquista in quel modo un pacchetto. Esempio della lavatrice prima, ma potrebbe essere anche il cliente sta comprando un televisore piuttosto che un lettore DVD. Nel lettore DVD il prodotto associato potrebbe essere il cavo HDMI piuttosto che nel caso del televisore magari la ciabatta con il filtro di protezione per le sovratensioni. Piccole cose di bordi non troppo elevati o le staffe, per esempio nel caso dei televisori LCD, ma è le staffe per attaccarlo al muro. L'utente che ne ha bisogno effettivamente non deve pensarci troppo, non deve avere un prezzo eccessivo per esperienza e al tempo stesso stiamo aiutando il nostro cliente perché non lo costringeremo a comprarsi a essere nella scheda prodotto, a fare aggiungere il carrello, poi andare in altre sezioni del sito per cercare dei prodotti, gli accessori aggiuntivi, il termine giusto può essere accessori aggiuntivi potrà servire. Se vendiamo computer, il prodotto associato magari potrebbe essere il mouse, la tastiera, le casse, piccole cose. Già un monitor richiede magari che l'utente vada a vedere le specifiche del monitor, quindi forse non è la scelta migliore sia qui dentro. Questi sono i prodotti associati. I prodotti alternativi, lo dice anche il nome, sono delle alternative al prodotto che l'utente sta visualizzando. Quindi degli altri prodotti simili per caratteristiche, per fascia di prezzo devo decidere io, titolare il negozio, cosa può essere simile. In questo caso, ad esempio, abbiamo scelto delle altre penne con lo stesso materiale, quindi sempre in radica, anche se è un'altra stilografica con una linea leggermente diversa e un prezzo diverso, l'altra è una roller. Potrei aver scelto invece, se no avevo altre penne in radica, potrei mettere delle altre penne stilografiche, quindi dare all'utente un ventaglio sotto di ulteriori alternative a quel prodotto. Anche lì, come scelgo le alternative? Dovrei sceglierle magari in un range di prezzo non troppo lontano al prodotto che l'utente sta guardando perché mettiamo che abbia delle penne che sono nella fascia tra 50-100 euro, 100-200, poi 200-400. Se il cliente mi sta guardando una penna da 100 euro, tendenzialmente cercherò di offrirgli prodotti sulla stessa fascia di prezzo o comunque con piccoli scostamenti, mettiamo che il prodotto costa 100 euro, magari offro prodotti che vanno dagli 80 ai 120 euro. In questo modo non gli faccio fare dei salti verso prodotti troppo elevati, che magari potrebbero catturare la sua attenzione, ma che in quel momento sono fuori budget per il suo acquisto. Se vado di piccoli passaggi, mettiamo che faccio dagli 80 ai 120, il cliente avrà una penna da 120 che gli piace di più, clicca su quella, quella da 120 magari avrà delle alternative che vanno dai 100 a magari 200 euro, perché lì magari ho meno selezione. Se poi mi clicca quella da 200, gli proporò ulteriori penne ancora più costose. Penne dove magari, cioè penne ho prodotti dove ho appunto prodotti più costosi o magari anche prodotti più economici, ma dove ho più interesse a venderli. Magari ho molto magazzino fermo di un certo prodotto per cui voglio spingere nella vendita, possa essere prodotti che anche a fronte di un prezzo più basso magari mi permettono delle marginalità più alte, quindi ovviamente le dinamiche con cui vado a sceglierle dipende da me. Però suggerire delle alternative può essere utile. Pensiamo che se avete un'attività fisica, se avete avuto un'attività fisica in un negozio, tendenzialmente il cliente che entra, mi arriva in negozio, inizia a guardare, magari sceglie un prodotto, chiede al commesso oppure il commesso si avvicina, suggerisce un prodotto e tendenzialmente si propongono anche delle alternative al prodotto presente. Il classico che il cliente mi chieda di vedere anche qualcos'altro. Quando il cliente è davanti io posso chiedergli effettivamente quali sono i gusti, quali sono gli interessi, cosa vuole vedere. Su un sito web io non posso chiedere attivamente al mio cliente, quindi posso soltanto supporre che se dentro una certa scheda di prodotto gli piacerà quella tipologia di prodotto, gli interessa quella tipologia di prodotto, gli interessa quella fascia di prezzo. Di conseguenza gli propongo già delle alternative. Io in questo modo sto riducendo i passaggi del cliente per andare a vedere un altro prodotto perché non dovrà tornare alla categoria dove magari ci sono anche penne di altro tipo per trovare le penne in legno. Ovvio se magari ho utilizzato gli attributi correttamente in magento, magari nella colonna in sinistra o il filtro, ma non ho detto che il cliente sia arrivato dentro a questa penna direttamente dalla ricerca di Google, quindi è arrivato direttamente qui. Se l'utente mi tornasse indietro nelle penne, ad esempio la direzione limitata, mi arriva in una categoria dove i filtri non sono ancora attivi, quindi vedrà un po' di tutto, vedrà tante tipologie di prodotto, non vede solo quel tipo di prodotto. Io devo cercare effettivamente di far lavorare l'e-commerce come se fosse la trasposizione di un commesso che deve aiutare, deve accompagnare il cliente a comprare il mio prodotto. Il mio interesse, il mio scopo finale è l'acquisto del mio prodotto, del prodotto che il cliente sta visionando o in un altro prodotto, perché non è detto che se arriva dalle cerche Google arrivi nel prodotto magari più esatto, più corretto per magari quello che ha del suo pensiero. Quindi prodotti alternativi qui sotto sicuramente possono essere di aiuto. Dobbiamo fare attenzione però nel caso avessimo schede prodotto magari con poco testo, brevi, di non sovraccaricare la pagina, perché l'effetto contrario che potremmo avere nel caso avessimo magari un testo molto breve è di ritrovarci un'immagine grande, delle immagini ridotte, dei prodotti associati, poco testo e subito qui sotto degli altri prodotti magari anche simili esteticamente. Lì potremmo portare in confusione il cliente, potremmo disorientarlo, che non è sicuramente quello che vogliamo, perché se è dentro una scheda prodotto non dobbiamo neanche distrarlo troppo dalla funzione dell'acquisto. Infatti qui mancano i tasti acquista, perché uno dovrebbe andare dentro e vedersi il prodotto aggiuntivo. L'altra funzione è quella dei prodotti consigliati. I prodotti consigliati vengono consigliati nel carrello in base ai prodotti che il cliente ha acquistato. Quindi in questo caso qui avevo già messo la penna, però se facciamo rimuove articolo vediamo di ripartire. Proviamo a fare con la spunta in modo che ci troviamo nel carrello tutte le due scelte. Quindi mi troverò la mia penna e la mia custodia. Con un singolo clic l'utente ha aggiunto due, ma potrebbero essere stati tre, quattro, cinque prodotti. In questo modo già potenzialmente ho alzato il mio scontinuo di vendita. Quando arriva al carrello, qui dipende molto dal template come è impostato, come è impaginato, io posso consigliargli degli altri articoli che devono funzionare un pochino da vendita quasi di impulso, un po' come fanno nei supermercati dove abbiamo alla cassa le caramelle, dei dolciumi, le batterie, prodotti sicuramente che attivano l'attenzione, che possono essere utili, con importo ridotto che il cliente mette nel carrello senza pensarci troppo sopra, senza andare dentro a vedere le descrizioni. Io qui sto comprando una penna, potrei voler dire ok aspetta ma l'importo non è eccessivo e vedo che c'è, mi sono dimenticato che c'era, oppure vedo che c'è anche il servizio di incisione. Oppure mettiamo che io non avessi aggiunto la custodia, vedo che c'è, perché magari costava troppo, non mi interessava, però magari ho una custodia morbida, più economica, che a quel punto posso dire vabbè non ho preso quella a 30 euro, prendo quella a 10. O ad esempio le cartucce di ricarica, le cartucce di ricarica, torniamo al discorso prima della lavatrice, potrebbe anche qui essere del detersivo magari più economico di quello che avevo proposto nella scheda della lavatrice, perché magari nella scheda avevo proposto delle confezioni più grandi, più costose, però magari nella cassa potrei proporre dei campioni, delle confezioni più piccole, in modo che il cliente, anche se non ha aggiunto il prodotto in quantità più grossa, magari comunque prende un prodotto più economico da pochi euro per provarlo. Qui infatti abbiamo aggiunge al carrello, perché io voglio che il cliente, senza uscire da questa pagina, clicchi e vada ad aggiungere questi prodotti. Nel momento che lo aggiunge quel prodotto scompare dai suggerimenti, quindi se il cliente aveva già magari questa custodia morbida, perché era già tra i prodotti suggeriti, non l'avrebbe vista qui sotto, quindi anche questa è una funzione abbastanza importante. Non possiamo purtroppo, non abbiamo delle funzioni, almeno nei moduli base, per dirgli se ha già una custodia, non proporgliene un'altra, quella funzione manca. Però ovviamente se incastro correttamente le opzioni, io posso far sì di vendere degli articoli, degli accessori aggiuntivi, che possono effettivamente avere a volte anche delle marginalità importanti. Ipotizziamo magari che sto vendendo dell'abbigliamento, se sto vendendo dei pantaloni, nella scheda magari, nella scheda del prodotto potrei aggiungere delle cinture di certi marchi, magari anche un po' importanti, con degli importi rilevanti, oppure potrei proporre nella parte del carrello delle cinture più economiche, o come fanno a volte nei negozi di scarpe, alla cassa propongono magari i piccoli prodotti, quelli che costano 3-4 euro per la pulizia della calzatura. Ovviamente gli propongo dei prodotti per la pulizia della calzatura che lui ha scelto, non generico. Quindi mi sto sostituendo effettivamente al commesso che mi dice guardi che c'è anche questo prodotto che ti potrebbe essere utile. L'inserimento di queste opzioni, vediamo un attimo nell'interfaccia amministrativa, ma comunque è molto semplice perché ho proprio le tre voci separate, quindi i prodotti associati, che come abbiamo detto sono i prodotti che mi escono a destra della descrizione dentro la scheda prodotto, i prodotti associati, che se non hanno opzioni appunto presenteranno quella casellina per la spunta veloce e immediata, quindi i prodotti associati, i prodotti alternativi che sono quelli che mi escono in fondo alla scheda e i prodotti consigliati che sono appunto quelli che escono nel carrello. Qui nel caso io non abbia prodotti, la pagina parte comunque con la spunta sulla voce sì, quindi io non vedrei, non vedrei, facciamo un attimo un esempio, torniamo via i due prodotti alternativi, torniamo nella pagina, nel tab dei prodotti alternativi, appena finito di caricarlo e vedo che io ho impostato su sì e non vedo niente qui dentro, cosa devo fare? Qui devo dire qualsiasi e fare la ricerca, in questo modo mi vengono fuori tutti i prodotti del mio sito. Ovviamente se ho molti prodotti dovrò andare a limitare la ricerca magari inserendo una parte del nome piuttosto che una parte del codice prodotto. Se ne ho più di uno da inserire, mettiamo qui radica, ok, radica, faccio ricerca, il sistema mi restituerà i prodotti che corrispondono che nel titolo presentavano radica, li spunto, mettiamo che voglio aggiungere altri tipo di prodotti, altri prodotti in legno. Vediamo se ne ho qualcun altro che iniziano col termine legno. Quindi se vedete li ho spuntati e ho fatto di nuovo un cerca senza neanche salvare. Ok, qui mi dà delle altre stilografiche in legno, le seleziono, non seleziono questa perché è un legno particolare, se io faccio salva e continua, lui mi aggiungerà questi due e i due che avevo selezionato prima. A volte su sistemi, su server non troppo performanti può capitare che quando salvo effettivamente questi parametri non li tenga in memoria, me ne accorgo perché quando torno nel tab a costruire quattro prodotti, due prodotti, non ne troverò nessuno. Lì purtroppo tocca rifarlo, dipende molto dal server perché la scrittura di questi dati richiede una scrittura di una mole abbastanza grosse i dati nel database, quindi non serve che come performance non sono ottimali, quindi ci metto un po' troppo a scrivere e magari non sempre si conclude correttamente. Come vedete qui abbiamo aggiunto velocemente se io volessi aggiungere un ulteriore prodotto, qui gli ridò qualsiasi, gli dico stilografiche, lo cerco e posso selezionare qualcos'altro, ricordarsi qualsiasi. Fare attenzione che se tolgo qui la spunta mi toglie via quelli già selezionati, quindi se io avessi tolto la spunta per errore, adesso stilografiche non ha trovato niente, va bene, se io per errore avessi tolto la spunta mi avrebbe disattivato quei prodotti che erano già selezionati, quindi quando vado a salvare me li avrebbe rimossi. Devo fare un po' attenzione a questo discorso di togliere la spunta qui sopra, con sì lui mi mostra i prodotti che sono associati, con no mi mostra quelli che non sono ancora associati, quindi anche qui posso fare la ricerca. Altra cosa a cui fare attenzione sui prodotti alternativi o consigliati è che il sistema mi presenta quelli che io seleziono, a prescindere dalla loro disponibilità, quindi fare attenzione ovviamente che se ho un agente impostato in modo a far vedere anche i prodotti non disponibili, ogni tanto dovrei andare a controllare di non avere schede prodotto dove magari suggerisco altri prodotti che in realtà non ho a magazzino, quindi allontano l'utente dalla scheda del prodotto mandandolo in prodotti che però poi non può comprare, lì dipende un po' l'impostazione che ho del mio Magento. Ci sono anche dei software, dei plugin che permettono di scegliere in automatico, in base alle modalità di navigazione degli utenti precedenti, scegliono in automatico i prodotti alternativi, cioè guardano la media delle altre persone, magari dopo essere stato in un certo prodotto, nel prodotto A va nel prodotto B va nel prodotto C, il sistema fa una statistica e inizia a suggerire quei prodotti aggiuntivi come quelli correlati, perché se tante persone, scusate come quelli alternativi, perché se tante persone guardano effettivamente quella sequenza di prodotti, magari il sistema pensa che sia una logica. Alcuni software, alcuni plugin ancora più avanzati vanno poi a vedere magari se effettivamente il cliente acquista in abbinata quei prodotti assieme, quindi dà un punteggio ancora più rilevante e di conseguenza tenderà ancora di più a suggerirli. Ricordiamoci sempre che però i software sono purtroppo abbastanza stupidi, quindi se avesse abbigliamento e magari per qualche motivo dieci persone di seguito mi entrano su un nuovo prodotto, magari una camicia gialla e ci mettono come prodotto successivo che vanno a guardare dei pantaloni blu piuttosto che rosa, il sistema prenderà quella come abbinata suggerita. Quindi ovviamente se siamo noi a suggerire i prodotti e a consigliarli avremo un'attenzione molto superiore e un'intelligenza molto superiore di quella che può essere quella di un software automatico. Però su siti molto molto voluminosi con tanti prodotti o con grosso ricambio di prodotti anche la soluzione è quella di avere dei sistemi automatici che vadano a consigliare dei prodotti aggiuntivi può essere effettivamente utile. Vi do un attimo il nome di un plugin che utilizziamo quando abbiamo questo tipo di necessità, così se vi interessa potete attivarlo. Ad esempio su questo sito non l'abbiamo messo proprio perché vogliamo essere noi ad andare a suggerire al cliente delle penne sostitutive perché magari oltre al materiale tendiamo a consigliare penne magari che abbiano le stesse caratteristiche di peso piuttosto che di dimensioni, cose che il software ovviamente automatico non riuscirebbe a entrare così nel dettaglio nel suggerire delle alternative. La cosa fondamentale di fare tutto questo, come diciamo prima, è appunto quella di far sì che il cliente magari acquisti più prodotti assieme, ma prima ancora quella di rendere più semplice e veloce la navigazione del nostro cliente all'interno del nostro sito. Più pagine riusciamo a fargli guardare, più prodotti riusciamo a fargli vedere, più probabilità abbiamo che effettivamente acquisti, perché più riduciamo la frequenza di rimbalzo nelle pagine, quindi più l'utente rimane dentro, più abbiamo delle probabilità, ovviamente non delle garanzie che l'utente poi torni a comprare. Il plugin aggiuntivo per, non me lo sta caricando, lo mettiamo magari nelle note di questo video. Un attimo, un attimo, un problema col PC che sta registrando. Un attimo, un problema col PC che sta registrando. Forse ho raggiunto su un altro server. Allora, il plugin si chiama, in ingresso lo trovate nel Magento Connect e si chiama Also Viewed Products, quindi altri prodotti visti. Appunto, questo raccoglie tutte quante le esperienze di navigazione, il tipo navigazione degli utenti precedenti, però lato amministrativo mi permette, se voglio anche di modificare la relazione tra prodotti, quindi dare un peso differente o comunque essere io a suggerire. In quel caso, nel caso utilizzo questo plugin, devo fare attenzione ovviamente a non usare anche i prodotti alternativi, almeno che non voglia che nella scheda prodotto magari escono quattro alternativi più altro quattro suggeriti in automatico. Anche lì, torniamo al discorso iniziale, dobbiamo fare attenzione a però non sovraccaricare le informazioni, perché attivate come nei negozi, entro per vedere un prodotto, non sono molto convinto, il commesso magari al posto di mostrarmi un altro prodotto simile, leggermente differente, inizia a tirarmi fuori dieci prodotti magari della stessa tipologia, ma completamente differente l'uno all'altro. Ammettiamo che stavo prendendo un pantalone blu, un jeans, è come se con me solo iniziassi a tirami fuori, a posto che di jeans anche pantaloni eleganti, pantaloni in pelle, rosa, giallo, rosso e blu. Il rischio è che l'utente, il cliente, sia confuso da una troppa scelta e quindi abbandoni l'acquisto. Se invece io gli suggerisco dei prodotti simili, leggermente diversi, se la sua attenzione era già caduta su quel prodotto, ho probabilità che se magari quel prodotto non lo comincia al 100%, però magari un prodotto simile con leggere differenze, che può essere una piccola differenza di prezzo, piuttosto che una piccola differenza di caratteristiche, magari attira il suo interesse e lo acquista. Cosa ovviamente poi fondamentale su tutti questi sistemi è ogni tanto, anzi sarebbe a fare molto spesso, andare a controllare sui nostri sistemi di statistiche, quindi Google Analytics, piuttosto che PeeWee, Clicky, quello che utilizzate, andare a controllare e verificare effettivamente i percorsi di navigazione degli utenti, cioè come si muovono all'interno, se passano tra le varie pagine, se quando magari poi arrivano all'acquisto magari riesco a trovare un percorso medio che compiono per arrivare all'acquisto, magari un flusso, quindi posso prendere quell'informazione e cercare di suggerirla agli altri, perché se inizio a vedere che una, due, tre, cinque, dieci persone per comprare passano tra certi prodotti, prima di arrivare all'acquisto posso già cercare anch'io di preparare quel canale di percorso per accompagnare il mio cliente a comprare, piuttosto che se vedo che magari dopo un certo percorso arrivano un prodotto che mi allontana e puntualmente ho un altissimo percentuale che dopo aver visto quel prodotto mi abbandona l'acquisto, dovrò andarmi a ricontrollare la scheda di quel prodotto, che non ci siano banalmente degli errori, o magari cercare di capire perché gli utenti dopo aver visto uno, due, tre prodotti arrivano al quarto prodotto e puntualmente su quel prodotto abbandonano il sito. In quel caso magari posso anche provare a disattivare quel prodotto perché magari crea confusione, incertezza nel cliente che sta comprando. Se avete commenti, domande, postateli pure qui sotto il video e sarà mio piacere poter rispondere o magari eventualmente fare anche dei video integrativi se avete ulteriori dubbi o altre domande da pormi. Ciao a tutti, grazie.